Presidente, lei non è la prima volta che viene all'Aquila? No, non è la prima volta. Tengo molto a questo territorio, a questa città. Noi come Camera abbiamo cercato di fare lo sforzo massimo per cercare di aiutare le regioni e le popolazioni colpite dal terremoto. Siamo riusciti a risparmiare molti soldi, abbiamo versato circa 160 milioni di euro al fondo per le aree terremotate. Stiamo facendo l'impossibile. Come l'ha detto il Presidente del Consiglio regionale, il Sindaco dell'Aquila, effettivamente c'è ancora bisogno della presenza del Parlamento? C'è bisogno ancora della presenza del Parlamento, delle istituzioni, c'è bisogno del Governo in una sinergia che riesca a risolvere tutte le questioni che ancora non sono risolte qui all'Aquila e nelle altre zone terremotate. Esatto, in Abruzzo c'è tutta la provincia di Teramo, le Marche, soprattutto sono zone che stanno soffrendo ancora e si lamentano. No, non c'è dubbio che si deve fare sempre di più e avere un percorso che riesca a risolvere definitivamente queste problematiche. Oggi lei farà un giro a piedi, mi risulta, della città per vedere come vanno i lavori? Sì, cercherò di fare un giro a piedi appena finiremo qui la presentazione del Stato della legislazione e vi sederemo un po' lo Stato dell'arte. Una battuta sull'autonomia delle regioni, questo tema di cui si occuperà la Camera? Sull'autonomia il Parlamento dovrà essere centrale e sarà centrale.